Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È l'ultimo test prima delle gare ufficiali. La San Benedettese lo gioca nel pomeriggio alle 17 contro la V-Sartena, squadra laziale di Serie D al Samba Village di Stella di Monsampolo del Tronto. Dovrebbero restare a guardare gli under Luccarini e Lachir non al meglio, mentre sarà l'occasione per vedere gli ultimi arrivati a Gustinone, Vita e Chinellato. Dopo questa si farà sul serio. Domenica 28 agosto alle 16 la sfida di Coppa Italia col Tolentino a Riviera delle Palme, poi il 4 settembre alle 15 il debutto in campionato a Montegiorgio e quello casalingo l'11 col Cinzia al Balonga. Samba sempre nel Girone F con Marchigiane, Molisane, Abruzzesi e la Campana Matese che ha appena ufficializzato l'ex vittorio esposito. Girone a 18 squadre in attesa che le questioni Teramo e Campobasso si definiscono con le due società che sperano di essere inserite in sovrannumero. Mercato. Il DS Vittorio Cozzella sta aspettando la risposta di un over per completare il centrocampo. Intanto ha firmato il portiere Guido Guerrieri, 26 anni, in Riviera da martedì. Acquisto estivo numero 18. Per l'ufficialità si attende solo il transfer dalla Bulgaria, dove l'ex Lazio ha maturato l'ultima esperienza. E ieri sera la società, in un video pubblicato sui social, ha reso nota la nuova maglia rosso-blu. Testimonia il capitano Angiulli, il vice Lulli e l'attaccante Cardella. Infine, lunedì 22 agosto alle 10, scatterà la campagna abbonamenti che torna dopo lo stop imposto dal Covid. Nella stagione del centenario il payoff scelto è una lunga storia d'amore. 120 euro la curva, 180 la est mare, 300 la tribuna centrale. Prezzi ridotti per over 65 donne. Gli under 12 invece pagano 10 euro in tutti i settori. Proposti anche 300 abbonamenti special, con 40 euro in più, in regalo la nuova maglia rosso-blu firmata dalla Nike. Ufficializzati pure i prezzi di biglietti, con tariffe differenziate rispetto all'acquisto al botteghino dello stadio, oppure nei punti vendita o sul web.